Terza edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra, promosso dalla Fondazione Univerde e dalla Società Geografica Italiana per la conoscenza e la valorizzazione dei parchi nazionali e regionali italiani in occasione della 42esima giornata mondiale della Terra. Presso Palazzetto Mattè in Villa Celimontana Roma, sede della Società Geografica Italiana, si è svolta la cerimonia di premiazione. A 750 le foto ammesse al concorso su circa 1000 pervenute ad una giuria composta da Alfonso Pecoraro Scania, presidente della Fondazione Univerde e, solo per citarne alcuni, Mario Tozzi, il noto geologo, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi o ancora Rosalba Giugni, presidente di Marevivo e Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF. A vincere l'edizione di quest'anno è stato Mario Spalla con una suggestiva fotografia scattata in Liguria nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Al vincitore un premio in denaro e l'onore di vedere la propria foto esposta in maxi a fissione a Roma in piazza Montecitorio. Sono arrivate ormai quasi a mille foto arrivate, poi sono state selezionate ovviamente alcune centinaia, sono arrivate in finale 20 e la vincitrice di quest'anno, che è legata al Parco delle Cinque Terre, rappresenta in qualche modo per la prima volta un parco antropizzato perché nelle altre due edizioni avevano vinto foto della natura incontaminata. Quindi c'è anche un segno che i giurati, che poi sono personalità rappresentative dell'ambientalismo italiano, da Fulco Pratesi a Giovanni Valentini, passando per il presidente di Federparchi e per tanti altri, Rosalba Giugni, hanno dato valore questa volta alla capacità dell'uomo di conservare e preservare pure i luoghi dove abita. La cosa importante è la crescita di attenzione, noi vediamo sempre più persone che sono anche più preparate e più attente nel fare le foto, quindi c'è disponibilità. E poi la cosa importante è che quest'anno abbiamo molti più sostenitori. Il fatto stesso che una grande catena come NH Hotel abbia deciso di sostenere e di far girare in molti NH le foto dei parchi, e una serie dei foto dei parchi, le vincitrici, o meglio le finaliste, è un segno secondo me molto bello e molto importante. Tutti ci raccontano che negli ideogrammi cinesi la parola crisi significa anche rinascita e questo vale, non c'è bisogno di andare in Cina, insomma, ogni cosa in qualche modo è fine e ricomincia di nuovo una nuova vita, una nuova storia. Quindi anche la crisi economica è crisi di questo sistema economico, della terza rivoluzione industriale è invece l'inizio, perché abbiamo la fine del periodo del fossile, cioè la società basata sul petrolio, sullo spreco, sul consumo del territorio, su una esagerata aggressione alla natura. Io spero sia questa società che è in crisi e quindi con la possibilità di pensare oggi a una nuova realtà. Dentro questo madre terra è una cosa centrale, proteggere le zone integrali di grande caratteristiche, di grande storia naturale è fondamentale. Però le aree vicine o le aree, come dire, non per le proprio di wilderness, quelle più anticamente selvagge, le altre aree vanno utilizzate bene per l'agricoltura biologica, l'artigianato sostenibile, le attività di turismo e di ecoturismo, tutte queste attività che ovviamente fanno di un parco una realtà che ha anche una sua capacità di vita economica, una sua green economy, che deve essere quella di una green society, perché green economy non significa riempire di pannelli solari un parco. Green economy significa fare cose compatibili in un parco, mettere il solare magari in modo integrato sui tetti delle case, perché molti parchi ovviamente sono abitati, fare in modo di fare un'agricoltura, ma non farla con i pesticidi, ma farla biologica. Ci sono tante attività che sono di valore, di qualità, danno vantaggio economico e sono compatibili con i parchi nazionali. La foto è stata realizzata durante una normalissima vacanza, tra l'altro dal 2007, quindi di parecchi anni fa. Passione della fotografia già da alcuni anni, tre piede, filtri fotografici, zaino, levataccia la mattina presto, perché per riuscire a cogliere diciamo certe sfumature, la luce migliore, bisogna fare anche un po' di sacrifici. Spero anche con questo premio veramente prestigioso di aver omaggiato questa gente, queste persone e questi luoghi dopo le tristi vicissitudini di ottobre. Bisognerebbe cercare di investire un pochettino di più sul territorio, come hanno detto durante la manifestazione, appunto più di una persona. Penso che comunque in Italia non si stia facendo tutto ciò che si potrebbe. Capisco che è un momento di difficoltà, io anche a livello lavorativo lo sto attraversando, però penso si debba fare qualcosa perché il territorio, l'ambiente è quello che ci lascerà un domani qualcosa, soprattutto nei giovani e ai nostri figli.